Ovvero c'è una filata in costume delle nostre concorrenti di questa serata Così con il titolo Pills Wolf Quindi mi ammite all'inizio, mi raccomando giurati di stare attenti Vuotare la fisicità delle nostre meek Ma iniziamo subito di nuovo con la concorrente numero 1 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti